Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Jessica e sono una docente di lingua e letteratura tedesca. Siamo circa a metà del corso di tedesco intermedio B1, questa è la lezione 9, e oggi leggeremo, tradurremo e analizzeremo insieme il secondo testo. Quello di oggi non è un vero e proprio testo, quindi lineare, lungo, eccetera, ma sono piuttosto piccoli annunci di lavoro, diciamo, fittizi o tratti, che si trovano sul libro Das Klap 2, che è un manuale di studio di tedesco, dove per fare un esercizio di comprensione del testo venivano presentati alcuni annunci di lavoro. Quindi ecco, lo sottolineo perché non mi chiedete, ah, prof, dove ho trovato questo annuncio, perché mi interesserebbe, sono annunci appunto di questo libro, probabilmente anche un pochino vecchiotti. Appunto, il libro Das Klap 2, vi metto il link sotto nell'info box. Tutte le volte che io utilizzo del materiale di qualche libro trovate sempre sotto il libro menzionato e il link di affiliazione dove potete acquistarlo subito. Bene, direi che possiamo incominciare con il primo mini testo di oggi. Come vedrete, questi annunci sono strutturati quasi tutti in modo diverso. Per questo ne ho fatto una piccola selezione perché erano molti di più, ne ho scelti un paio come modello, diciamo così. Alcuni usano il tu, alcuni usano il lei. Avranno anche delle differenze proprio a livello di strutture perché ogni annuncio si rivolge, diciamo, a un target molto particolare, quindi anche il modo. Questo non è tedesco, questo è marketing. Ogni annuncio avrà delle caratteristiche molto diverse. Allora, andiamo a leggere, a tradurre e ad analizzarne le strutture. Sei tu, ti interessi, sei interessato al soleggiato sud dell'Europa? Guardiamo il verbo. L'esercizio che io vi consiglio sempre di fare, che è quello che stiamo anche facendo insieme, è quello di andare a vedere come sono strutturate le frasi e ricavarvi da soli la regola o la cosa da memorizzare. Questo sich interessieren è interessarsi. Uno dice interessarsi di qualcosa? No, perché abbiamo la preposizione für. Quindi ricordiamoci sich interessieren für. Allora, qui abbiamo chiaramente un accusativo, ma ricordiamoci che la preposizione für vuole sempre l'accusativo. Quindi interessarsi per qualcosa. In tedesco, qui abbiamo tutto un accusativo e qui abbiamo questa S dell'Europa. In Athene findest du einen spannenden job für ein globales Unternehmen? Ad Athene trovi, troverai, possiamo usare anche un presente con uso di futuro. Abbiamo iniziato con ad Athene, quindi verbo, seconda posizione, du va in terza. Job. Un emozionante, anche qui è un accusativo, ovviamente. Un emozionante lavoro, italiano lavoro emozionante, per un'azienda, un'impresa globale. das Unternehmen. Anche qui, quando mi viene il dubbio sull'articolo, non sempre, però ogni tanto le frasi vi possono aiutare. Se qui abbiamo un für plus accusative, ok? Qui abbiamo ein, se non è eine, se non è einen, ma è ein, questo molto probabilmente, molto sicuramente, è das. Poi abbiamo, proprio contro ogni dubbio, globales. Ok? Quindi questo è un modo, ripeto, non sempre perché a volte può esserci un en, quindi un pochino più difficile, però quando è così chiaro, potete ricavarvi da soli l'articolo di un sostantivo. Stessa cosa nella frase seguente. Für ein neues Projekt suchen wir junge Leute, die in einem internazionalen Team mitarbeiten wollen. Anche qui, a volte c'è der Prof, che articolo ha Projekt? Guardate qui, uguale prima. Quindi, per un nuovo progetto, das Projekt, suchen wir, cerchiamo, junge Leute, gente, gente giovane, persone giovani, attenzione a questo Leute, dopo lo ritroviamo, che vogliono mitarbeiten, lavorare, collaborare in un team internazionale. Ecco, tornando alla cosa che vi ho spiegato prima, qui è un pochino più difficile capire se è das o der Team, perché avendo un dativo in einem internazionalen, questo è uguale sia per das che per der, qui in questo caso è un pochino più difficile. Di sicuro non è die Team, però il dubbio rimane fra das e der. Ve lo dico io, è das Team. Altra cosa importante, Leute, gente. Spesso mi chiedete, ma Leute è gente singolare, come in italiano, la gente è o è plurale. Guardate, Junge Leute dir wollen, quindi da qui capiamo che è plurale. Fatevi aiutare nella grammatica dalla grammatica stessa. Ve lo dico sempre. Nell'ultimo pezzo andiamo, l'annuncio va a descrivere le caratteristiche che una persona deve avere per poter lavorare in questo posto, per poter candidarsi. Quindi, sottointeso, sei la persona giusta, sei. Allora, tu, candidata ideale, hai, queste sono conoscenze della lingua inglese molto buone, ovvero B2, C1, capacità, felicità di comunicazione e un forte spirito di team, che in italiano è tipo uno spirito di squadra, di collaborazione, team working. Anche qui, prof, che articolo ha Geist? Che articolo ha Geist? Geist. Andiamo avanti con il secondo annuncio. Questo mi ha incuriosito tantissimo e ho voluto metterlo proprio perché c'è una particolarità che ultimamente trovo sia negli annunci che nelle pubblicità. Ve la mostro subito perché è proprio nella prima riga. Allora, dovrebbe subito saltarvi all'occhio una cosa. Che cosa? Questa è una domanda, ok? C'è un punto di domanda. Le domande, a meno che non ci sia verbi, in, was, wo, iniziano in tedesco tutte con il verbo. Perché qui no? Intanto questa parola, qui sappiamo che significa lavoro, neben significa vicino, in italiano potremmo dire un lavoretto extra, un secondo lavoro flessibile. Suchen, nach, cercare qualcosa, nach, più datif, ok? Cerchi un secondo lavoro flessibile? Stai cercando un secondo lavoro flessibile? Perché non inizia con suchst. Ho notato, vi dicevo, allora, sinceramente non lo so, è una cosa che ho pensato io, ci ho fatto caso ultimamente, che soprattutto nelle pubblicità o appunto negli annunci più diretti, più giovanili, chiamiamo le cose che utilizzano il du, ma l'avevo anche visto per un parco avventure, tipo parco tematico in Germania, che iniziava con du, eccetera. Penso che sia per creare una cosa più, mi viene in inglese catchy, per metterti subito nella cosa diretta. Ehi tu, stai cercando proprio per, sì, sei proprio tu. Credo che sia per questo, per metterti subito nella pubblicità, negli annunci, per attirare più la tua attenzione, per farti sentire più chiamato in causa. Ripeto, nelle pubblicità ne ho viste tantissime di queste costruzioni che iniziano con du. Se qualcuno ha una spiegazione più tecnica, me lo faccia sapere nei commenti, perché sono davvero curiosa anch'io. Wir suchen die nächsten Superprof. Noi cerchiamo, siamo alla ricerca, del prossimo Superprof. Probabilmente sono quegli annunci per insegnanti, ecco. Registriere dich kostenlos und finde mit Superprof motivierte nachhilfeschüler, schülerinnen in deiner Stadt. Allora, qui abbiamo un registrati, dich. Questa non è una seconda persona singolare all'indicativo. Questo viene usato, direi, un imperativo, come si registri. Lei, registrati. Per richiamarti, esortarti a farlo, invitarti a farlo. Registrati gratuitamente, kostenlos, senza costi, gratuitamente. E trova, con Superprof, studenti, schüler, qui schülerinnen è per fare maschile e femminile. Studenti, in italiano sarebbe barra, studentesse. Quindi studenti o studentesse motivati. Nachhilfe sono le, chiamiamole in italiano ripetizioni, lezioni private, cioè quelle che in italiano comunemente avevano chiamate le ripetizioni, quelle della scuola. In deiner Stadt, nella tua città. Wir suchen nachhilfe in Mathematik. Attenzione a questo, non è Chemie, non è Chemie, ma è Chemie. Anche qui abbiamo una Y in mezzo, che si legge U. Also Physique, Englisch, Französisch und Spanisch. Attenzione sempre a come si scrivono le lingue in tedesco. Sono diverse dall'inglese, perché c'è una C in mezzo. Vedete, vabbè, poi se fate una certificazione e lo scrivete così è un errore. Also Englisch. E attenzione anche alla pronuncia, non è English, ma è English. Quindi ovviamente questo è molto facile. Cerchiamo ripetizioni di Mathematica, Chimica, Fisica, Inglese, Francese e Spagnolo. Ho detto spesso che Unterricht non significa proprio la lezione come intendiamo noi, anche perché poi ogni volta mi viene chiesto, come posso dire il plurale? Non c'è. Perché der Unterricht tecnicamente è l'insegnamento. Si può dire die Unterrichtstunde e in quel caso avremo anche il plurale die Unterrichtstunden. Quindi in italiano possiamo anche tradurre la lezione, però poi è un pochino più difficile se vogliamo renderla in tedesco, soprattutto col plurale come in italiano le lezioni. Comunque la lezione può, dov'è il verbo? Eccolo qui. Avere luogo, avvenire, avere luogo. Tra l'altro mi è molto in mente in questo momento che in Archilfe si può anche tradurre adesso come adesso con tutoraggio, se mi interessa. quindi può avvenire by dear, by plus dative, by dear, presso di te, oppure sempre by più dativo, questo è un dativo plurale, presso gli studenti, a casa quindi a casa tua o a casa degli studenti, zu Hause, zu Hause si scrive così, oppure anche online, per questo vuol dire attraverso attraverso la web. Quindi la lezione può essere anche offerta, angeboten, anche attraverso la web online. Bene, qui avete visto l'utilizzo del du perché ci si rivolge molto probabilmente a gente giovane e a studenti e quindi si utilizza il du. Riflettete sulla prima costruzione che è interessante. Io sono sempre affascinata dall'evoluzione della lingua. E se il tedesco che ha delle strutture grammaticali così rigide va a modificare una struttura che è notissima come quella della domanda, o ci sono esigenze di marketing, di modernità, di sviluppo, sono molto curiosa. Fatemi sapere. Vediamo ora l'ultimo testo. Allora, questo ha un registro un pochino diverso. Zur verstärkung unseres teams suchen wir interviewer o anche qui in per il femminile für, attenzione, partiamo dall'ultima analüsen forschungsmarkt für marktforschungsanalüsen questo è diverso perché qui già ci si riferisce ci si rivolge a un pubblico in modo diverso allora verstärkung e appotenziamento l'articolo è di e lo sappiamo per due motivi prima di tutto perché termina in ung e poi perché abbiamo zu plus il zu vuole sempre il dativo quindi zu plus dativo der il dativo der è di di zua apotenziamento unseres teams genitivo allora tutti mi stanno dicendo ma il genitivo sta scomparendo a cosa serve impararlo ok va bene se tu non lo vuoi utilizzare non c'è nessun problema però sapere che esiste perché esiste ancora scritto e parlato in giro e quindi è importante secondo me sapere come riconoscerlo poi se non lo si vuole utilizzare perché considerato un pochino arcaico e difficile infatti molti giovani non lo utilizzano più va benissimo però importante secondo me saperlo riconoscere perché tanti libri non lo mettono più nella spiegazione grammaticale io penso che sia importante sapere almeno della sua esistenza ok a potenziamento del nostro team suchen wir cerchiamo intervistatori intervistatrici per la parola importante è alla fine poi si va indietro per analisi di ricerca di mercato ok sie sind der die richtige für uns e poi andiamo a vedere interessante qui invece ci danno del lei quindi si rivolgono a noi dandoci del lei sie sind quindi in italiano ovviamente lei è terza persona singolare in tedesco sappiamo terza persona singolare lei è quello giusto o quella giusta per noi interessante perché dea di e il questa è la declinazione dell'aggettivo quale quale delle tre beh dovreste capirlo subito questo va bene sia per dea che per di quindi questo rimane uguale per noi vediamo cosa c'è bisogno per essere quelli giusti quello adatto allora es macht ihnen spaß auf leute zu zu gehen allora spaß machen vuol dire divertirsi lo spasso in italiano divertirsi in questo caso è mettere un pochino cosa un po' più leggera le piace andare verso le persone essere in contatto con le persone avvicinare sì alle persone sono tanti modi per tradurlo in italiano questo zu gehen questo ihnen scritto maiuscolo forma di cortesia per esempio le piace su gehen auf sie sind gerne unterwegs und mobil lei sta volentieri in giro unterwegs questa parola mi piace tantissimo dire in giro fuori per strada in questo caso metterei tipo non lo so è flessibile qualcosa del genere penso che si riferisca a essere una persona a cui piace muoversi e spostarsi e andare in giro se avete traduzioni migliori tutto è possibile e lavora volentieri con un laptop con un tablet con uno smartphone e questo che vuol dire o puntata a umlaut puntata o da endlich o similari o simili e conosce i software per la statistica e per tipo le ricerche per i sondaggi ok ho voluto proprio mostrarvi tre tipi di annunci diversi con un target diverso con un tipo di richiesta diverso e avete visto anche come cambiano le strutture grammaticali e come cambia il registro a un certo punto ok la grammatica per me è fondamentale ma è anche interessante fare un piccolo passo in più uno step in più per andare a vedere anche le sfumature della lingua ma vedere come cambia in base alle richieste soprattutto in ambito dei marketing è interessante vedere come la lingua ci viene proposta bene io spero davvero che anche oggi questa lezione vi sia piaciuta e un po' magari diversa dalle letture che abbiamo fatto insieme fino ad ora come al solito volevo stare nel quarto d'ora non ce l'ho fatta nemmeno oggi quindi io vi saluto e come sempre bis bald buon anno bene 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 Grazie a tutti.